non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi Sol Leone, Venticello, niente nulla, cosa chiedere di più e allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori che stadio, pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre l'arbitro ha già dato via il cronometro Cristiano Ronaldo riceve la palla Neymar cerca lo spunto, occasione da rete e la palla entra in rete doveva solo appoggiarlo in porta, è stato lasciato troppo libero lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete ma è riuscito a sfruttare al meglio l'impeccata perfetta gran gol davvero una grande partenza, un ottimo inizio scodella in avanti numero ottima discesa sulla destra prova con la palla filtrante palla filtrante per Cristiano Ronaldo è riuscito a passare da lì può segnare prova a salire in aria grande salvataggio da parte dell'estremo difensore non ha sbagliato nulla dall'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito la mette sulla sinistra si allunga e trova la palla c'è Messi Cristiano Ronaldo Neymar ha provato a fare tutto da solo la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati e perde il duello fisico con l'avversario palla filtrante per Cristiano Ronaldo è un grande riflesso qui grande parata dell'estremo difensore ha fatto tutto alla perfezione ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale 40 ma toglie dalla porta molto attento qui il portiere l'importante è non perdere la concentrazione quando serve lungo passaggio in avanti prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Neymar Krikoviak legge bene l'azione blocca il pallone Eder Neymar Zico Neymar riesce ad intercettare e sarà dunque calcio d'angolo Sceglie di battere bordo Giordi Alba Rabio c'è un'opportunità c'è il tiro palla fuori di poco Palla fuori di poco e finita la processo Sceglie di battuta Grazie a tutti